Noi crediamo che il Governo sia giunto al capolinea perché non riesce a trovare una soluzione in materia economica, di occupazione, di lavoro, di sicurezza e di giustizia e come tale oggi resta al suo posto soltanto per mantenere un potere che non riesce a gestire. Prima ci sono le dimissioni di questo Governo, prima si va a votare, meglio è per il Paese. È una decisione doppiamente scorretta quella del Governo brasiliano, primo perché viola gli accordi di cooperazione in materia giudiziaria fra Italia e Brasile, secondo perché è una decisione oggettivamente in favore del terrorismo e quindi oggi molti terroristi sanno che andando in Brasile avranno un punto di ritrovo e di tutela e questo mi pare che non sia oggettivamente accettabile in una società moderna. Si impone nella individuazione del quorum necessario per far superare lo scoglio referendario la decisione di non considerare i voti degli italiani all'estero, di quegli italiani all'estero che non hanno potuto votare nel calcolo del quorum perché è sì un diritto quello degli italiani all'estero di votare ma se questo diritto gli viene tolto poi addirittura non può essere usato questa lesione del loro diritto in un abuso per non far raggiungere nemmeno il quorum agli italiani.